Buonasera, benvenuti alla Dr. Spy. Oggi vi presentiamo i nostri nuovi kit di micro auricolari. Solo micro auricolare, solo telecamera wifi in bottone con lettura testi, oppure kit completo micro auricolare con microcamera con bottone per lettura testi a distanza illimitata. Allora, partiamo dal primo dispositivo. Questo micro auricolare è una semplice, come potete vedere, sembra una scheda gommata, semplice da utilizzare. Qui si inserisce una micro SD card, scusate una SIM card, quindi una SIM telefonica, poi c'è lo scomparto per ricaricare. Quindi appena si inserisce la SIM, il LED si accende, qui c'è il microfono. Questo dispositivo si mette addosso, quindi può stare tranquillamente in un taschino, per esempio qui può stare anche sotto la maglia, oppure si può tranquillamente nascondere e poggiare su un tavolo, su una sede, si può poggiare all'interno di uno zaino, in qualsiasi posto. Il dispositivo ha un microfono amplificato ad alta potenza, questo significa che anche messo in un taschino il dispositivo riesce tranquillamente a funzionare, sia l'audio che il micro auricolare. Il micro auricolare si inserisce all'interno dell'orecchio, la scheda si mette nel taschino della giacca o della camicia o di altra maglia. Dopodiché una persona all'esterno può chiamare e potete parlare e ricevere per un totale di circa 5 ore di autonomia. Altrimenti abbiamo una microcamera wifi alta risoluzione con microcamera bottone intercambiabile che vi dà la possibilità di vedere a distanza illimitata sia scritte, sia monitor, sia anche panoramiche. Per esempio, adesso è acceso, come potete vedere le scritte sono molto nitide. Adesso andiamo a vedere come si vede su un monitor, questi sono tutti pronta consegna, come potete vedere sono tutti prodotti Dr. Spy in pronta consegna. Adesso andiamo a visionare direttamente da un pc come si vede. Allora, adesso colleghiamo il dispositivo, mettiamo una schermata, perfetto, questa è una schermata del computer, adesso noi vedremo da qui. Come potete vedere si legge in maniera nitida. Questo bianco che vedete, questo pallino è il riflesso della nostra luce sul soffitto, che riflette sul tablet e si vede sul display, infatti vedete non è altro che il riflesso della luce. Comunque, le scritte sono molto nitide e chiare. Comunque, le scritte della tastiera, panoramica. Questo è un dispositivo veramente performante, di alte prestazioni. Allora, adesso torniamo all'esposizione. Come potete vedere dalla Dr. Spy ci sono tantissimi prodotti, tutti in pronta consegna. Parliamo di oltre 500 articoli di controspionaggio e altrettanto di spionaggio. Tutti i dispositivi sono in pronta consegna. Per qualsiasi informazione potete contattarci.